perdere a reggio ci sta ma così proprio no soprattutto a ripensare al terzo set sciupato ancora una volta ai vantaggi dopo aver condotto fino al 24 23 e aver perso gli altri due lottando e come a 21 e 22 la squadra è più che viva a partire da un ottimo bullfond subentrato uno spento sant'angelo conta adesso realizzare sei punti nelle ultime tre gare rincorrendo l'unica agganciabile per restare in a2 il portoviro adesso a tre punti si può fare sperando comunque nei play out vedremo in a3 non ci sono più mani in giro da mangiare uno splendido cadeau al macerata al tie break quando dal 13 a 11 la bapineto ha subito un parziale da 0 a 4 uscendo sconfitto e ora il grottazzolina appare irraggiungibile a più se imbette almeno per il secondo posto la strada è spalancata ma senza più sbagliare possibilmente 21 battute quasi un set per cui i marchigiani ringraziano sentitamente di buono c'è che i bertoliani hanno ritrovato un superlink 36 favolosi punti e scoperto due pedine alternative che saranno preziose nel rush finale cioè omaggi giuliani rispettivamente al posto degli infortunati calonico di sabato e del campo in a2 femminile fa finalmente festa l'altino nell'ultima della prima fase un recupero travolge il quotato ravenna trova tre punti in dote per la seconda fase ed esalta il gruppo che si è espresso per quello che vale in bimba schile mentre mestamente condannato e ancora perdente l'alba torna il sole in casa paglieta che liquida 3 a 0 nettissimo nei parziali l'anguillara e vivifica la speranza di rimanere in cadetteria dove in campo femminile va solo applaudito e a lungo il blitz della tetina sul campo tutt'altro che facile del casal dei pazzi impresa titanica da tre punti che salta nel nero verdi che devono credere fino in fondo a quello che sarebbe un vero miracolo per confermare la b1 in b2 fatta eccezione per il teramo che torna subito al successo con un perentorio 3 a 0 sul trani purtroppo l'abruzzo stenta parecchio perdono tutte in casa un falcigliatissimo gata pescara 3 1 a 3 ceteas montesilvano 0 a 3 uno scontro diretto l'annunziana 0 a 3 con la capolista